Sia lodato Gesù Cristo Ciao amici e amiche Eccoci qui al Vangelo di oggi con fra Stefano Il Vangelo del Giorno sabato 27 aprile Santa Zita Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Preghiamo O Dio, che nella solennità della Pasqua agisci per la salvezza del mondo, continua a elargire alla Chiesa la tua benevolenza perché, fedele ai tuoi comandamenti nella vita presente, possa giungere alla pienezza della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni Gloria a te o Signore! In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli «Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo». Chi ha visto me ha visto il Padre? Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità, io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore Lode a te o Cristo Noi siamo cristiani, ma per molti versi viviamo ancora nell'Antico Testamento. Come sapete, la nostra Bibbia è composta dall'Antico e dal Nuovo Testamento, Vale a dire, da una parte c'è la parte antica che raccoglie quello che è stato scritto prima della nascita di Gesù e nel Nuovo Testamento comincia con il Vangelo che parla della nuova alleanza che Dio ha stabilito con gli uomini per mezzo di suo Figlio. Anche l'Antico Testamento è buono, ricco di buoni insegnamenti. E tuttavia, quando dico che noi viviamo ancora nell'Antico Testamento, non è che sia una cosa buona, significa che abbiamo ancora una visione autoritaria di Dio. Pensiamo a lui come a un giustiziere, come al dio delle guerre e della vendetta. Se invece vogliamo conoscere in modo autentico lo Spirito di Dio, noi dovremmo sempre, come prima cosa, fissare lo sguardo su Gesù, proprio come dice Gesù Filippo, chi ha visto me? Ha visto il Padre? Quindi quando ci poniamo qualche domanda astratta su Dio, non andiamo in cerca di risposte filosofiche, ma cerchiamo di ricordarci come Gesù è vissuto e a come si è comportato, perché questo è l'unico modo in cui possiamo conoscere Dio. E faccio anche un esempio, se vuoi sapere come Dio si comporta con i peccatori, guarda come Gesù si è comportato con i peccatori. E questo vale anche per tutte le altre domande su Dio che ci vengono in mente. Se vuoi una risposta, guarda a Gesù. Gesù è la risposta alle tue domande su Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. LA BENEDIZIONE PER TE E PER LE PERSONE CHE PORTI NEL CUORE Il Signore sia con voi Vi benedica Dio onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen! E ringrazio tutti voi che vi siete già uniti alla comunità del Vangelo, voi che condividete in vari modi i nostri momenti di preghiera, di ascolto del Vangelo, ti auguro di cuore una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao ciao e abbi cura di te!